Cos'è che stai mangiando a colazione? Ti tieni leggero, veda? Spaghetti con le verdure saltate, piccanti, guscel e potato Sì, più, frutta, caffè, quello... Ciao, ti prego! Ma ciao! Oddio, che carino! Ok, ragazzi, siamo tipo persi. Tu cosa ne pensi? No, ci siamo persi, ragazzi. Stiamo facendo finta che ci siamo persi e fanno uno scherzo a Elena. Ah, vabbè, ok. Beh, Elena non ha problemi, però. Ma poi scappiamo, invece. Non preoccupare. Non preoccupare, Massimo, tu morto. Non preoccupare, Massimo, tu morto. Ciao! 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 Ciao!